Musica L'ignatura della questura di Napoli contro i parcheggiatori abusivi in 12 allontanati. Complessivamente sono 28 le persone rintracciate mentre chiedevano denaro per la sosta non autorizzata in varie strade cittadine. False fide, iussioni e autoriciclaggio, perquisizioni in tutta Italia, coinvolta anche la Campania. Violenza contro il marito e l'amante dell'uomo, moglie tradita, arrestata, fatto esplodere un ordigno nell'azienda di famiglia, protagonista una donna di Bonea. Giornata straordinaria di raccolta firme, promossa dalla CGL a Napoli contro l'emendamento alla legge di correzione del bilancio che di fatto reintroduce i voucher. La CGL chiama a raccolta per la manifestazione del 17 giugno. Da Quilonia agli Stets, i vigili del fuoco di Avellino ospitano i vertici del New Jersey. Basket lega a giorni decisivi per la Juve Caserta in corso una trattativa per cedere le quote, mediazione di Boldoni. Nuova edizione del telegiornale Targato Media TV, l'abbiamo appena sentito dalle nostre anticipazioni, apertura dedicata alla cronaca. 12 parcheggiatori abusivi sono stati sorpresi dalla polizia nel corso di una vasta operazione di controllo che ha riguardato diversi quartieri della città di Napoli. Nei loro confronti il questore ha emesso un provvedimento di allontanamento dalle stesse zone. Sentiamo. 12 parcheggiatori abusivi sono stati sorpresi dalla polizia nel corso di una vasta operazione di controllo che ha riguardato diversi quartieri di Napoli. Nei loro confronti il questore ha emesso un provvedimento di allontanamento dalle stesse zone. Si tratta dei cosiddetti divieti di accesso che possono avere una fino a sei mesi per gli incensurati e fino a due anni per quelli che hanno avuto condanne. Nel corso delle verifiche gli agenti hanno anche emesso 129 contravvenzioni con sanzioni amministrative. Gli investigatori hanno passato al setaccio le aree adiacenti, le stazioni ferroviarie, aree portuali, marittime o delle fermate degli autobus del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Complessivamente sono 28 i parcheggiatori abusivi e sono stati più volte rintracciati mentre operavano in varie strade cittadine e contestualmente allontanati. Nei loro confronti sono stati notificati gli avvii dei procedimenti amministrativi finalizzati all'adozione degli ulteriori provvedimenti. Un uomo di 35 anni, residente del Colano, è stato ferito a colpi d'arma da fuoco la scorsa notte nei pressi dell'uscita del centro direzionale a Napoli della strada 162. Il 35enne ha riferito che mentre a bordo della sua auto è stato affiancato da uno sconosciuto che ha esploso un sol colpo di pistola. Ferito ad una gamba si è recato subito dopo all'ospedale Villa Betania di Ponticelli dove è stato medicato e guarirà in 20 giorni, indaga la polizia. Un cittadino della Tanzania di 24 anni è stato bloccato dai militari della Guardia di Finanza all'aeroporto di Napoli Capodichino. I finanzieri insieme ai funzionari doganali hanno scoperto che l'uomo aveva in una borsa 4 involucri contenenti circa 3,3 kg di eroina. Per il 24enne sono scattate le manette con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. False fide iussioni e autoriciclaggio, perquisizioni in tutta la penisola coinvolta, anche la Campania. Sentiamo. Operazioni Osella d'Oro, arresti e perquisizioni in tutta Italia. Genova, Torino, Cremona, Milano, Parma, Grosseto, Roma, Latina, Viterbo, Bari, anche Napoli, Benevento e Caserta. Gli uomini del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza hanno eseguito 8 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Roma. Un arresto in carcere, 4 ai domiciliari e 3 misure interdittive. Nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti appartenenti ad un'associazione per delinquere finalizzata all'abusiva attività finanziaria e all'autoriciclaggio. L'organizzazione, sempre secondo la Guardia di Finanza, era diretta da un napoletano di 67 anni, destinatario della misura cautelare in carcere già noto agli uomini del valutario, per essere stato coinvolto nell'indagine su false fideiussioni per l'iscrizione ai campionati di calcio di diverse squadre, tra cui Roma, Napoli, Cosenza e Spal. Ai domiciliari sono invece finiti la moglie e la cognata del promotore dell'associazione, che avevano il ruolo di tesoriere e di tenutaria della contabilità, un romano di 58 anni, che era il suo braccio operativo, e un genovese di 58 che invece si occupava di trovare i clienti. La misura interdittiva è infine scattata per tre prestanome. I beneficiari delle polizze emesse erano privati, ma anche imprese ed enti pubblici, come nel caso specifico del Comune di Firenze. Polizze che, qualora ne fosse stata chiesta l'escussione, non avrebbero mai potuto trovare soddisfazione, poiché le società emittenti non avevano alcuna consistenza patrimoniale. Agli indagati è stato anche contestato il reato di autoriciclaggio, poiché i circa 772 mila euro di proventi illeciti ottenuti grazie alle fideiussioni sono stati trasferiti su conti italiani ed esteri, intestati a 14 società con sede in Italia, a Malta e in Inghilterra e riconducibili al capo dell'associazione. Il GIP del Tribunale di Napoli, Marcello De Chiara, ha respinto la richiesta di patteggiamento avanzata da Mario Di Leva, 69 anni, commerciante di armi, che ha preso il nome di Yafar dopo la conversione all'Islam, e della moglie Anna Maria Fontana, 63 anni, entrambi detenuti accusati di traffico internazionale di armi con l'Iran e alcune fazzioni libiche. Il giudice non ha ritenuta congrua la pena, rispettivamente tre anni e due anni e otto mesi di reclusione, che gli imputati avevano concordato con la procura a conclusione dell'inchiesta. A quanto si è appreso, i difensori intendono riproporre una nuova richiesta di patteggiamento in occasione del dibattimento. Nel corso di perquisizioni effettuate in un rione di torre annunziata, i carabinieri della compagnia, insieme al nucleo cinofili di Sarno, hanno rinvenuto un fucile sovrapposto con matricola a brasa, 45 cartucce di vario calibro ed una bilancino di precisione. Il tutto era in un borsone sportivo, nascosto in una botola ricavata sul soffitto di un appartamento abbandonato. L'arma sarà oggetto di indagini balistiche. Occupazione abusiva di demanio marittimo è questo il reato contestato al titolare di una struttura balneare situata sulla spiaggia dei Maronti, Barano di Ischia, dagli uomini della Guardia Costiera di Ischia che oggi hanno eseguito l'ordinanza di sequestro preventivo della struttura disposta dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della quinta sezione della Procura della Repubblica. è stata quindi accertata l'occupazione abusiva senza titolo di un'area del demanio marittimo pari a 71 metri quadrati, ulteriore rispetto a quell'oggetto della concessione demaniale marittima rilasciata dal comune di Barano. Violenza contro il marito e l'amante dell'uomo. Una moglie tradita è stata arrestata dai carabinieri, protagonista una donna di Bonea. Sentiamo i dettagli. Pur di non vedere distrutto il suo matrimonio, una moglie tradita ha cercato in ogni modo di convincere il marito a troncare la relazione con l'amante, prima incendiandogli l'auto, poi facendo esplodere un ordigno nell'azienda di famiglia. Ma i carabinieri del nucleo investigativo di Benevento l'hanno scoperta ed arrestata. Ora si trova ai domiciliari, protagonista della vicenda una donna di Bonea. Gli attentati incendiari risalgono allo scorso mese di gennaio. In particolare il primo episodio delittuoso è stato perpetrato il 6 gennaio 2017 a Salaucio del Sannio, ai danni di due autovetture in uso rispettivamente al marito dell'arrestata e ad una 32enne del luogo con danneggiamento di entrambi i mezzi con un incendio doloso. Il secondo evento, di natura dinamitarda, ha avuto luogo il 14 gennaio 2017 all'interno di un agriturismo di Bonea di proprietà della famiglia del marito della donna arrestata. A seguito delle investigazioni condotte anche con l'ausilio di attività tecniche è stato accertato che entrambi gli episodi erano riconducibili alla volontà punitiva della donna nei confronti del marito che l'aveva abbandonata insieme ai figli per andare a vivere con una giovane donna. Da allora i militari hanno lavorato su più piste non esclusa appunto quella passionale. La donna tradita e accusata di violenza privata e porto abusivo di ordigno esplosivo. Movimentato in seguimento nella notte in pieno centro città ad Avellino che si è concluso con l'arresto di tre persone che avevano appena svaliggiato tre appartamenti di un condominio di Via Piave mentre i proprietari dormivano. Gli agenti della squadra volante della questura sono intervenuti su segnalazione di un passante che aveva notato i tre, tutti originali di Eboli, scendere in strada attraverso le condutture esterne del gas. La fuga è durata poco e i tre sono stati bloccati ed arrestati. L'intera refurtiva consistente in computer, denaro, gioielli, telefoni cellulari è stata restituita ai proprietari. Sorpreso in possesso di droga trentenne della Valle del Calore denunciato dai carabinieri. Il controllo a Mugnano del Cardinale l'immediata perquisizione ha permesso ai militari operanti di rinvenire in suo possesso nonostante ben occultate varie dosi di hashish per un peso totale di circa 20 grammi. Di notte in giro con una mazza da baseball due giovani di Avellino sono stati denunciati dai militari. Si tratta di un ragazzo di 25 anni ed un altro ragazzo di 30 ritenuti responsabili del reato di porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Giornata straordinaria di raccolta firme promossa dalla CGL a Napoli contro l'emendamento alla legge di corruzione del bilancio che di fatto ha reintrodotto i voucher. La CGL chiama a raccolta per la manifestazione del 17 giugno. Sentiamo. A Napoli come in tutto il mezzogiorno è ancora più importante una mobilitazione che riaffermi che serve un lavoro ma servono i diritti senza i quali quel lavoro non ha né dignità né futuro. Quello che è accaduto non è degno di un paese civile non esiste il caso di un governo che abroga una norma per impedire un referendum e poi la reintroduce. Non esiste il caso che tutto ciò accada in spregio alla volontà espressa da milioni di lavoratori che avevano sottoscritto quel referendum per potersi esprimere, dare modo ai cittadini italiani di esprimersi. Per questo stiamo promuovendo una petizione popolare a sostegno delle nostre ragioni per l'affermazione dei diritti costituzionali per dire forte e chiaro con la manifestazione che terremo sabato a Roma che non accettiamo schiaffi alla democrazia. Da Napoli anche quindi a quella manifestazione giungerà un sostegno forte di migliaia di lavoratori e di cittadini e invitiamo tutti a partecipare a questo appuntamento per il lavoro, per la democrazia, per la Costituzione. I Vigili del Fuoco di Avellino hanno ospitato una delegazione del New Jersey per uno scambio di doni e soprattutto di esperienze. Vediamo. Pomeriggio di visita per il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino. La centrale di via Zigarelli ha ricevuto la capatina di una delegazione della città di Montclair nel New Jersey, Stati Uniti d'America guidata dal sindaco Robert David Jackson e dal vice capo della polizia Tresi Frazzano per insaldare un rapporto di amicizia che viene da lontano. Dopo uno scambio di doni e la proiezione di alcuni filmati relativi agli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco la delegazione ha visitato la caserma gli automezzi e il laboratorio di opere provvisionali. E non solo i Vigili del Fuoco di Avellino hanno voluto omaggiare i loro ospiti per l'importante contributo che i pompieri di Montclair svolsero nelle operazioni che seguirono gli attacchi terroristici di New York dell'11 settembre del 2001. L'occasione è stata utile anche per mostrare ai colleghi d'oltreoceano la qualità delle operazioni svolte dai Vigili del Fuoco italiani durante il terremoto di Amatrice e durante le operazioni di salvataggio di alcune opere distrutte dal sisma del 1980. Grande è stata la soddisfazione della delegazione che ha invitato negli Stati Uniti una rappresentanza del comando di Avellino per partecipare ad ottobre al Columbus Day. Era il 1917 infatti quando dal piccolo comune di Aquilonia molti partirono alla volta degli States per cercare fortuna ed oggi ad un secolo esatto di distanza l'Irpinia ha voluto celebrare una ricorrenza che assume immenso valore per le tante generazioni di italiani che attraverso il duro lavoro hanno contribuito a rendere sempre più grande il paese che le accolse. Un anno denso di attività fervide così ha definito l'anno scolastico appena ha concluso la dirigente dell'Istituto di istruzione superiore di Feichio Castelvenere Elena Mazzarelli sentiamola ai nostri microfoni. È stato un anno denso di attività fervide sono tante veramente le iniziative formative che siamo riusciti a realizzare nel corso dell'anno scolastico. Scuola Viva è uno dei tanti progetti che la scuola ha messo in campo ma poi ci sono stati altri progetti nell'ambito del polo tecnico formativo ci sono stati progetti di alternanza scuola lavoro di esperienze fatte nelle regioni d'Italia in città molto molto importanti poi l'ampliamento dell'offerta formativa con corsi di professionalizzazione bartender, cake design in taglio di verdure moduli anche di approfondimento e di conoscenza di lingue diverse, nuove come il russo, come lo spagnolo il tedesco per gli alunni dell'alberghiero di Castelvenere delle classi quinte che hanno voglia di partecipare al progetto EURES del Centro per l'impiego di Benevento grazie al quale possono accedere a domande di lavoro presso la Germania che richiede numerosi cuochi e numerosi camerieri e quindi con questo modulo di tedesco i ragazzi hanno avuto la possibilità di apprendere gli elementi basilari per una comunicazione diciamo elementare ma importante per inserirsi anche nel mondo del lavoro in Germania Fisco e Scuola l'Agenzia delle Entrate ha premiato le scuole vincitrici il concorso giunge alla sua quinta edizione ha premiato due video e due manifesti e dei manifesti sentiamo premiati nella sede dell'Agenzia regionale delle Entrate in Campania i vincitori del concorso Fisco e Scuola promosso dalla direzione regionale in accordo col MIUR l'iniziativa è giunta alla sua quinta edizione ha premiato per l'anno scolastico 2016-2017 due video e numerosi manifesti nella sala Enzio de Lucia consegnate le targhe e i riconoscimenti del concorso nato con l'obiettivo di stimolare negli studenti attraverso una produzione creativa e una sana competizione una riflessione sul tema della legalità fiscale più in generale sul rispetto delle regole civili come conferma Cinzia Romagnolo direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate della Campania l'obiettivo reale di questo concorso è raggiungere con un messaggio che in qualche modo la crisi può avere anacquato perché la crisi ha portato molte famiglie ad avere dei disagiti in termini di afflusso reddituale si può perdere il senso di quello che è il prelievo fiscale io sono convinta che le scuole molto possano fare perché riescono in qualche modo a rielaborare in modo semplice uno dei principi che sono principi costituzionali l'articolo 53 della Costituzione dice che tutti dobbiamo contribuire e se siamo società contribuiamo al fabbisogno dello Stato in virtù della nostra capacità contributiva di quello cioè che possiamo spendere però partecipiamo ai bisogni di tutti che in qualche modo si dipanano in assistenza sanitaria in trasporti in servizi e anche nel welfare perché ricordiamoci che welfare in termini anche di cassa integrazioni e di assistenza alle famiglie disagiate viene dalla contribuzione erariale quindi dalla raccolta delle tasse sul podio dei vincitori tre istituti scolastici uno per ciascun ordine e grado che hanno saputo meglio interpretare il messaggio educativo del progetto per la sezione scuole primarie l'istituto comprensivo di Amicis di Succivo per la categoria scuole secondarie di primo grado l'istituto comprensivo Marotta di Napoli per la sezione scuole secondarie di secondo grado l'istituto superiore Siani di Casal Nuovo una menzione speciale per la creatività è stata inoltre attribuita all'istituto comprensivo Giovanni 23esimo di Recale Pagina sportiva Serie A stagione Alvia il prossimo 20 agosto e mentre si pensa al nuovo campionato si trae un bilancio dei numeri di quello appena trascorso sentiamo 29 sono le vittorie della Juventus in campionato nessuno ha fatto meglio dei bianconeri quest'anno in Serie A Team il Napoli invece è quella che ne ha perso di meno 4 la squadra di Maurizio Sarri ha chiuso anche con il miglior attacco e a metterci lo zampino spesso è stato José Maria Callejon l'uomo assist del torneo con 12 passaggi decisivi da chi innesca i gol a chi lievita il portiere con più parate è Gigi Donnarumma con 146 interventi il numero 99 del Milan ha chiuso al primo posto anche nel conteggio delle presenze insieme a Francesco Acerbi e Wojciech Czesni sono 38 tutte da titolare per un totale di 3420 minuti il giocatore allo stesso tempo il marcatore più giovane della stagione è stato Pietro Pellegri ha debuttato a 15 anni e segnato a 16 il più anziano il 41enne portiere del Cagliari Roberto Colombo la rosa con l'età media più bassa è quella del Milan 24,9 quella con l'età media più alta è quella del Chievo 31,3 le squadre che hanno impiegato più calciatori sono Pescara e Cagliari con 34 giocatori quella che ne ha schierati meno invece è la Roma solo 22 57 nazioni rappresentate quest'anno in Serie A Team la colonia più ampia è quella brasiliana con 34 giocatori seguono Argentina con 32 e Croazia con 20 basket lega giorni decisivi per la Juve Caserta in corso la trattativa per cedere le quote e mediazione in atto dell'ingegnere Dario Boldoni sentiamo sono giorni decisivi per il futuro della Juve Caserta società di lega di basket il cui patron Raffaele Iavazzi ha annunciato l'intenzione di voler cedere le quote una volontà già espressa nel 2016 al termine della stagione regolare poi però Iavazzi non trovò imprenditori disposti ad acquistare le sue quote e decise di andare avanti un altro anno oggi però la situazione sembra diversa Iavazzi ribadisce la sua ferma intenzione di passare la mano magari restando nella nuova compagine sociale con quote di minoranza non comunque superiori al 20% ma spiega che sono in fase avanzata trattative per la cessione delle quote ad un gruppo imprenditoriale con la mediazione dell'ingegnere Dario Boldoni e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità l'interesse di Boldoni nella trattativa costruttore nonché ex cognato di Corrado Ferlaino riguarderebbe il Palamaggiò l'impianto dove gioca da oltre 30 anni la Juve Caserta ubicato a Castelmorrone comune a pochi chilometri dal capologo e che da qualche anno è finito all'asta dopo il fallimento della società della famiglia Maggiò l'ultima asta giudiziaria tenutasi il 9 maggio scorso al Tribunale di Santa Maria Capoavetere è andata deserta così alla prossima seduta si partirà da una base di 6,8 milioni di euro e per acquistare il palazzetto basteranno appena 5 milioni di euro l'impianto che l'imprenditore Giovanni Maggiò fece costruire in poco più di tre mesi nell'estate del 1982 e finì all'asta nel 2011 con una base di partenza di 19 milioni di euro sull'identità degli imprenditori che fanno parte della cordata interessata a rilevare il Crab Iavazzi spiega di non poter dire nulla in quanto tra le condizioni per il buon esito della trattativa c'è proprio quello della riservatezza memore forse di quanto accaduto alcuni mesi fa quando fu resa pubblica la trattativa con un'altra società finanziaria con tanto di contratto per la cessione della maggioranza delle quote passaggio però mai concretizzatosi La Dinamo Banco di Sardegna aggiunge un altro tassello al roster 2017-2018 il club sassarese ha concluso un accordo con Levi Randolph guardia statunitense classe 1992 giocatore eclettico dotato di grande atletismo e fisicità può ricoprire i ruoli di guardia play e ala nell'ultima stagione è indossato la maglia della Sidica Savellino contribuendo a trascinare i campani fino alle semifinali scudetto ed era questa l'ultima notizia vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo e con il resto della nostra programmazione arrivederci al prossimo Median News Median News Mi Di Previsioni per giovedì 15 giugno 2017 Si indebolisce al nord l'anticiclone Giuda a causa di correnti instabili responsabili di un veloce peggioramento pomeridiano Sempre tanto sole invece al centro-sud Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it Al nord al mattino deboli piovaschi sparsi sui confini alpini, buono altrove Nel pomeriggio locali rovesci e temporali su Alpi e Prealpi in locale sconfinamento alle medio-alte pianure Qualche disturbo anche sull'Emilia Romagna ma migliorò ovunque entro sera-notte Al centro sempre stabile e ampiamente soleggiato, il cielo si presenterà sereno sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna Stessa situazione se ci spostiamo ad osservare come sarà il tempo sulle regioni meridionali Tantissimo sole e cielo limpido ovunque anche qui I venti saranno deboli e da direzioni variabili su tutti i bacini Temperature minime comprese tra i 15 e i 22 gradi su tutte le nostre regioni Durante il giorno invece prevediamo fino a 33 gradi al nord e punte di 35 gradi al centro e anche al sud Grazie a tutti Grazie a tutti